Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su un gioco di drifting abbastanza carino che io avevo da tanto che si chiama Carix Drift, no, si chiama Drift Max Pro, una cosisi, Drift Max Pro e niente ragazzi, è carino come gioco, vi consiglio di scaricarlo tanto perché è forse uno dei pochi giochi di drift su telefono fatti davvero bene che si chiama Carix Drift, è Carix Drift Lite, la versione più leggera e vi volevo più che altro parlare in questo video sia di questo gioco che dei giochi a cui sono più interessato all'E3 che sono ovviamente solo per PlayStation 4, comunque multipiattaforma perché non ho Xbox o PC quindi non mi interessano l'esclusivo Xbox ragazzi, è un gioco che mi interessa davvero tanto, che penso sì, uscirà pure sulla Play Beyond Good Evil 2, che è molto carino, intanto qua vengono le pubblicità è molto carino raga poi qualche altro gioco che mi potrebbe interessare, anche se non credo che verrà annunciato a queste tre, ma al prossimo Watch Dogs 3 ovviamente è il gioco che lo sto aspettando come un pazzo lo sto aspettando proprio come un pazzo ragazzi, dovete capire che io la notte mi sveglio e dico mannaia, non è che è uscito il trailer di Watch Dogs 3, mi sveglio, vado a controllare così, comunque un altro gioco carino che mi interesserebbe, come si chiama, The Crew 2 che vabbè, è uscita ora la Closet Beta, soltanto che io non avendo la Play non mi sono manco registrato per averla e... mi interessa tanto, credo che me lo comprerò, poi quando mi comprerò la PlayStation una volta finito di nuovo Payback e Watch Dogs 2, credo che lo porterò poi che altro, non mi viene in mente come si chiama quel gioco cioè ragazzi non so se uscirà a queste tre, però dovete cercare su YouTube World War 3, cioè vabbè 3 praticamente è tipo un incrocio tra un Call of Duty e un Battlefield però bello perché è ambientato ai tempi moderni e non ha niente di tipo navicelle spaziali e cose simili e mi interessa tanto poi ovviamente ragazzi, come si chiama quell'altro gioco, non mi viene mai il nome c'era un altro gioco ragazzi, molto carino avevo visto il trailer, ma poco era durato ora non mi viene come si chiama, mannaia, non mi viene proprio Radiazione no niente, non mi viene ragazzi probabilmente ragazzi invece, se vuoi un po' di news sul canale credo che porterò, appena riprendo la Play, poi porterò Need for Speed Payback credo che un'idea che mi è venuta da tanto sarebbe quella lì di portare tutte le macchine da Drift per ogni video ne faccio una dove faccio una gara e la faccio vedere siccome con il nuovo aggiornamento arriveranno tutte a 3,99 sarà molto più bello poi credo che porterò sempre il solito cazzeggio su Watch Dogs 2 con i miei amici ragazzi vi ricordo di passare dal canale di Gabgamer21 le solite cose, farò la cazzeggio, parkour ucciderò la polizia, ucciderò i ciccioni, ucciderò le femmine perché mi hanno fastidio su Watch Dogs 2 che sono brutte poi l'altro potrò, mi sa che forse farò qualche missione del bunker su GT Online con qualche mio amico giusto per avere i proiettili esplosivi visto che con le attività moddate mi sono riempito a soldi e ora non mi servono i proiettili esplosivi visto che ho comprato ogni cosa che c'è in GT Online ho comprato tutti i garage che si possono acquistare riempiti con tutte le moto del gioco tutte le macchine di Benny trasformate come quelle di Fast and Furious cioè ragazzi, mi sono passato la scorsa estate bellissima piena di, come si chiama, di attività moddate e cose simili è stato bellissimo e mi sa tanto che porterò quei video sulle attività del bunker le cose del bunker, recupero casse, quelle cose là e poi credo che porterò ovviamente, come si chiama mi vede il nome forse qualche, non sono sicuro, qualche video su Need for Speed del 2015 giusto per far vedere tipo la macchina più veloce del gioco ma tenziata al massimo giusto per così perché no poi paro qualche sempre, come si dice, missione su GTA sempre si può vendere veicoli là con l'ufficio o aiutare amici sempre così giusto per portare video su GTA visto che ancora c'è non mi chiedete Fortnite che non lo porto manco se mi ma manco se ragazzi giuro che se soltanto se sto video facendo visualizzazioni porto Fortnite ma tanto non mi interessa Fortnite non lo porterò mai Rainbow si raga l'ho comprato l'ho comprato un praia l'ho comprato e credo che farò qualche video non è che sono uno di quelli competitivi tipo devo arrivare prima al mondo farò un video giusto per così qualche missione qualche come cavolo si dice qualche partita niente di che poi qualcos'altro che farò sarà non credo Mirror's Edge però come si chiama mi viene mai il nome di quel gioco che ho però musica di sottofondo intanto ragazzi non mi viene in mente c'era un gioco bello che io avevo solo che non mi ricordo mai come si chiama probabilmente non lo so può essere che porterò come si chiama no Watch Dogs 1 non credo che lo porterò perché già è troppo vecchio ok che mi piace è bello come gioco però è troppo vecchio mi sa che farò queste cose raga la Playstation ora me la prenderò a metà luglio inizio a metà luglio ci vorrà un po' dovete aspettare un po' ma intanto potrò fare video dal telefono ora arriva l'estate quindi è passata a Harley Davidson vicino a casa mia e raga farò video di parkour credo questa estate andando poi nelle spiagge oppure che so se vado in qualche gommone faccio i peggio salti poi credo raga che andrò pure ad Etnaland e quindi farò tipo i video quella copro mentre faccio tuffi pazzi ma proprio pazzi assai vabbè raga questo video finisce qui ho fatto una derapata quasi mortale noi ci vediamo alla prossima con il trailer di CSR Raging 2 che non posso cacciare yeah è mia pre-Google Play vabbè raga noi ci vediamo alla prossima adesso noi ci vediamo alla prossima fanculo noi ci vediamo alla prossima si non commento sul mio sfondo è bello è bello noi ci vediamo alla prossima vi auguro sempre un buon inizio delle vacanze se state iniziando la scuola se dovete finire la scuola avete una sforza una della merda noi ci vediamo alla prossima buone vacanze ci vediamo